Michelle Hunziker a cena nel ristorante di Ritorno di Fiamma è ufficiale. Michelle Hunziker si prepara a lungo, si mette in gringheri e si acconcia al meglio i capelli, deve uscire. La Showgirl 45N va a cena nel ristorante di Tommaso Trussardi. È il 39N a svelare la presenza nel suo locale della Showgirl 45N sul social, il ritorno di fiamma tra i due è finalmente ufficiale. Da Trussardi alla Scala a Milano Michelle alza il calice ricolmo di vino bianco e brinda. Tommaso la immortala così e posta tutto nelle sue IGD Stories. La coppia insieme sorride accanto all'amico Ed Cavisce. Fondatore e proprietario di Fashion We Repress, un portale online dove sono pubblicate le migliori sfilate di moda di tutto il mondo. Nel ristorante non sembrerebbero esserci le loro due figlie, Sole, 9 anni, e Celeste 7. È una notte romantica. Tommaso si rilassa con Michelle, un cui pare proprio aver ritrovato l'intesa di un tempo. Al Corriere della Sera recentemente sui presunti flirt che gli sono stati affibbiati ha detto, non c'è stata e non c'è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse. E sulla riunione Tommaso ho chiarito, io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme. Mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso.